L'Europa si abbia dovuto subire come l'Italia, eppure l'Italia è anche il paese che nonostante tutto, nonostante le divisioni ideologiche, ha bisogno di trovare sempre le forze, le energie, i bisogni di cambiamento e di rinnovamento della società italiana. Anche oggi, nonostante il perdurare di una dialettica politica ancora assegnata dalle ideologie e dalla città giudiziale che voi testimoniate oggi, dobbiamo nonostante tutto contribuire ancora ad apportare la democrazia e la libertà, soprattutto nella presenza delle nuove generazioni, attraverso l'esempio e la testimonianza che anche io oggi offro del dialogo rispettoso e della comprensione delle ragioni di tutti, perché questa è una democrazia, maiole! Abbiamo una possibilità di fischiare senza nessuna ragione, senza nessuna giustificazione, e se oggi siamo qui a ricordare e per chiederci se siamo degni del sacrificio delle vittime della strage di Bologna che formano, come diceva Piero Calamandrei, riguardo ai caduti della resistenza, maiole! 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 Maiole!